...e guarda che così... Abbiamo otto minuti barbiati... ...quattro dei barbiati... ...senti, io non tengo... ...a Gattone, io non tengo... ...ma io mi sento di condividere... ...una sensibilità... ...e invece se non è rotto, ma si prende... ...sì, siccome si vuole avvenire... ...quasi voglio ricordare... ...che non sono soltanto stato rotto... ...e avvenuto da un sistema... ...e non c'è il coraggio invece di contestare... ...e che sta anche in presenza... ...di un prognostamento speciale... ...de un prognostamento speciale... ...e che non è rotto... ...ma poi l'Esta... ...un soltanto è giusto... ...che non è una discusione... ...e invece... ...le ragione di cui... ...siamo stati soli... ...sono bra... ...e che è di notificazione... ...che sono stati... ...convalidati... ...e che... ...ieri... ...confronto con un viso... ...perto stato... ...ma poi... ...com'è che si sono... ...un punto di scuola? ...la commissione... ...la c'era... ...se già pubblica... ...se non ci siamo... ...se non ci siamo... ...le progetti... ...la cazzo è stato... ...l'esco... ...ma da come nasce... ...lo scioglio? ...n'asce... ...dà un principio... ...di un acto... ...amministrativo... ...como... ...deci... ...quale è il punto di patente... ...que la gente... ...se è... ...l'esco... 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 ...quanto è ciò... ...l'esco... ...01% ...epple... ...noi ci siamo trovati... ...mprezati... ...deci... ...che sono stati ...com Lex.. ...autobitari ...de strategies... ...che Paso до leas, ...un at zumo... ...una lei... ... Алексio... ...se c'è... ...un ruolo... ...c'è una ... ...so! ...se c'è non... ...fuori, ...no... ...do... ...dì... ...va... questa è una discussione bene, o no e anche già da parte da parte dei consigli salvo a voi, salvo a voi, salvo a voi e vado a voi, non mi chiediamo da nessuno queste sono le cose che noi ci troviamo di perché adesso sono stati più grandi e che cosa serve a fare sicurezza animale di poterlo, io non vi ho detto che è il proprio successo dobbiamo essere principali con le comunità per la lavorazione per la realizzazione della proposizione e allora è stato utile tutto questo dibattito e adesso non basta fare una denuncia con delle firme ecco, chiamando le signore città noi tutti i dati che facciamo rinforziamo l'uomo alla socialità per dire dalla parte del primario e quindi non se ci danno un controllo e quindi andiamo di sopra dove questa è una situazione che si può il controllo del mio sapendo che non c'è controllo e quindi è quasi difficile che non possiamo fare il racconto di voi il concorso di chi c'è ma che senso ha di chiamarlo del lì? che è essenziale in giù? quando avevano detto tutti quanti avevano un problema che avevano sbagliato tutti qua beh, forse è più facile in tale individuale il giudicatore del concorso come da 4-5 candidati prima è il problema non è del percentuale aumenta ma è questo volete proprio dire ammazzare in dubbio su quelle storie dell'amministrazione del percentuale che dice questa è inaccettata non è cambiato in dubbio non è cambiato a sospettare di quelle che sono state nelle procedure che in prima prova con Franck hanno anche svegliato come dire di contestazione anche delle sette giudizioni che ci sono delle civilei hai detto è interessante le civilei le civilei avranno una parola sua avranno una discutibile quantosina si assompa la responsabilità di Gira salvo questa è la politica è carica e dato che voi siete un professore anche di Gira con le indigente delle scelte è una situazione responsabile ma voi state credo alle parti che avevano 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 competenze e noi accettiamo anche il confronto e stiamo pronti e critica in modo che stiamo con questo ma sull'indigente in modo quasi più pratico noi abbiamo nessuno avessimo usato il confronto direi anche poi se noi avessimo lo sconfetto l'ho detto che il indigente non è che non è competente se si dice cosa è competente guardate l'ultimo dove avessimo sconfetto ma se noi avessimo sconfetto che sarebbe la più grande sconfetto non faremo solo chi dice ecco perché su questo punto noi abbiamo fatto una discussione di tipo politica perché noi cerchiamo analizzare uno a uno a uno ci vediamo un obcun che non abbiamo avessimo che si avessimo che sia la vita ora è come è che sia una cosa che un un e quindi vediamo che abbiamo sentito anche una volta il nostro amico allora, allora, rimontiamo se siamo una cosa, un problema se lo mettiamo in pressamento, non abbiamo nessun problema non è così difficile dobbiamo andare a fare un concorso del studio e ora che stanno a dire il punto di vista del tempo ma scusa, ma è possibile? senza che ciò possibile sta un vinto dopo vinto perché poi non è non per la maggioranza, se poi ci sono se qualcuno mi spazia di tanto, ma i voti, quando mi spazia di tanto, mi spazia di tanto no, ma non è questo ma su un atto che ha un'importanza politica non ha un'importanza nel vero perché facciamo tutti i diritti, non stiamo parlando di preliminare con le ragazze mia, che devono parlare voglio dire che tutte le confezioni però non è tanto questo punto no, perché su cui non è possibile ma per dare ciò che diciamo fa cosa che ci possa rinforzare solo ci sono sempre, noi tutti diciamo sempre ha disegnato un marchio, se volete di punto noi ci svegliamo sempre e ha il rispetto non è possibile non è possibile, non è possibile non è possibile, non è possibile ma anche se ci sono i nostri strumenti che facciamo e poi ci sono i nostri strumenti secondo me, è toqueroso da parte nostra non ragioniamo che è la speranza, questo sia come tutti le strutture, non è possibile ma ne hanno iniziate le ragioni prima, ma che quando facciamo le strumenti, abbiamo un patissime nel momento in cui ci sarà contatto e avrà superato, come dire, tutte le procedure giudizie, quelle che correttamente il Consiglio questo è il procedimento che si tratta per decenni e noi vorremmo portare a casa un risultato di altra condizione partendo le parti della parte nostra non c'è anche questo genere di sottrarsi e di escludersi da un procedimento che è quello come dire il più importante della nostra città e ecco che io sovrorrei che si recuperasse anche il nostro fisico di resto da dove siamo partiti è stato un mico che è stato un impatico proprio a me in nostra stazione che si tratta o anche un elego come dire il nostro non conto è una cosa del frattato che sicuramente in questo momento sfugge però su questa cosa è un indirizzo dell'organizzazione per decenni che vorrebbe essere una parte di queste tecniche dove credo che si dovrebbe portare un nuovo tema di studio che non è solo quelle delle condizioni ma anche quella di una capacità di ascolto complessiva generale rispetto a di una associazione di una professione di una professione che sono ben chiamati ben definiti soprattutto la parte del Partito Democratico che richiare l'ultimo anno che stanno parlando di un scopo tuo e non ci indicherebbe a fare un messo che vuoi crescere quanto no ripresenta gli due vendamenti inlle vicino non sono il sistema Perchè poi mi dice, perché stiamo veramente iniziando, abbiamo delle organizzate in casa, per il messo io sono proprio a dire no, non esiste, ma noi possiamo non escludere, non dice che gli ocenotti non fare l'ausilio sociale. Attenzione qui non stiamo a decidere, ma nelle aree di sventi, vanno a casa, vanno a restare in casa, perché c'entra tutto il momento intorno a questa posizione che sembra, voglio dire, sottile, ma che poi con la sua potenzialità, aprivo, quello che è un elemento popolare, e certamente non ci riconosciamo. E allora, noi possiamo cercare, ecco, questo è l'afferdo, io compro chiaramente anche lo spirito responsabile da me, con il diretta, dei momenti anche istitiosi, che servono anche per le prime e per la torre di un po' più pesante, per quanto già conosciamo, per quello di cui noi stiamo discutendo. Ma possiamo, per dire, cercare di trovare un momento, come dire, di un'idea che è un'idea che è il punto di partire da qui. Siamo d'accordo, facciamo questi temi, però cerchiamo di vedere poi alla prova dei vatti. Questi indirizzi che servono tra strutture, tra un pari, in un grande interna, e io, e noi che abbiamo, e noi abbiamo voluto questo momento di concorso sui diritti. Come noi vorremmo, ricordiamo, ma che è stato super evidente. Guarda, quella roba che dicevamo la mentalità da nessuno, voglio dire tutto che sta conoscendo questa probabilità. e noi che ci hanno, da un lato, e c'è il pataccio di pacchetto d'acqua, e in Italia di venire questi momenti, ma da un lato, e non sapevano che il momento di compro, se c'è arrivato il punto di compro, questo è il momento di compro per fare l'intesa della città, e gli stanno, forse da quest'anno si potrebbe andare con lì. e a rivedere, no, no, e a volte, non è un problema di natura politica, a un'ora di unità più competitiva, sui cittadini, sui cittadini, sui cittadini, però se lo direttino è difficile, poi sono i loro, sono i comportamenti, ma da una volta, da una volta, da una volta, da una volta, perché c'è questo, che nessuno pensa di dire che è il loro. Però vediamo anche se i comportamenti, in un momento così difficoltoso, qual è quello che noi viviamo, del maestro superato generale, però che sta succedendo, nessuno si mette, ma che questo potrebbe essere una occasione di impatto, erano delle elezioni che abbiamo fatto ieri, ieri, noi, e ieri, la moglie non era fatta, ieri, da un momento, e oggi il problema non si è molto bene, è impossibilitato, in un modo distinzionale, se ci sono un momento, in un momento così, perché i numeri non sono, ma da questo, ma cresce una funzione banalita del Paese, e noi, tra l'altro, qui, i rappresentanti, ci accompagnano, sempre di questo concitato grande, che sono per il mondo del loro lavoro, della sua situazione, vero, nazista, non è una speranza, e ci si attiva, tra quanto la funzione, magari anche istituzionale, in questo oggetto, che ha una fine di questo impasto, non è che è scindolosa, e non è una speranza del potere, intravedere una possibilità in poste, e non è una possibilità in poste, e non è una possibilità in poste, perché io lo dico veramente stavolta, come in amministrazione delle tattiche, che abbiamo detto, o lì, 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 o lì. E' una cosa che ho avuto libero. Nella vita di sascuna, ci sono i famiglienti qui, e ci sono anche dei bonciatori. Io sono un bonciatore, che è stato bonciato, ma ci sono una vita personale, come dire, non ci sono le informazioni di quello che è accaduto. Perché, lasciate il domicilatore, non in modo polemico, non ho fatto voglia di dire, perché alcune famiglie, non ci sono le informazioni di quello che è accaduto. E ciò non sono stati elettori. E io ho detto altro, che è un buon modo di dire, che può essere una politica, che è un buon modo di dire. E io le voglio ringraziare, per il tema degli esperimenti, che in tante occasioni ne hanno nomorato del loro concetto, facendo un concetto di risultati, che io spero vorremmo spiegare a me, con qualcuno di voi. Perché siete giorni, perché avete capacità, e tutto il giornale ho diventato le tue, per parlare in modo con voi. Però se mi devo dare un consiglio, di quello che, perché io ho frangine immaturate, non è stato solo un problema di morte. che non è stato solo un problema di morte. Ma magari se non abbiamo fatto un messaggio, di avere mezzo a noi, e non si tratta, e non si tratta, e non si tratta, ma come stai? Certo, ma non è una cosa. La vita della politica è fatta di portere al momento che si congono. Aveva cosa, poi ne vedeva in acqua. Allora, che cosa abbiamo fatto dire? Che cosa ci vuoi considerare? Un occhio di un intanto. Un po' meno di l'amore, di rivolgere, perché questo mi descrive un tratto di maschilabilità politica che non è pubblica, ma viene considerata la mia città. E questo ci fa crescere, ci fa crescere, come io penso, di essere cresciuta anche per questi comportamenti. Ora, Presidente, rispettiamo come me tra i corretti, e io ho un po' che fa del nate, cioè la problematica delle pannezzate, la macice dei bambini, il mio fritto, il mio rapporto con i corretti, il mio rapporto con i corretti, il mio rapporto è così. E poi un'automoto che ha sentato il cuore che tenete via, e ho detto, mi sono comparto, sono un sistema inutile per fare lo spin, il tuo, l'acqua di potenti, perché oggi siamo contraposti. E quante volte ci stiamo contraponendo con voi, il dono non si chiama dopo ad otto corso, un sistema facile, un sistema dittimo, si mise da dire per questa ragione che è circostabilizzata, che si spedisce la contestualità, la storia di scala, con ciò che non si può essere nel momento in cui il fattore è un po' diverso, perché c'è questa curva, c'è questa macchina, non è una curva di pronunciare lì, perché in realtà è proprio un pesante, ma non è quello che è un rimosso, un rimosso, un rimosso, un rimosso, una pretenda, non è così, è più riconoscenza in politica, è riconoscenza in politica, una sorta perché sto parlando sempre, non so se c'è un rimosso, c'è un rimosso, e poi una cosa, anche per la sua, la luce non consiglio latino, perché la luce si vede la nuova nascolta, ma non pensate che tutto nasca e nasce, perché? Chi va a svegliare le cose da perdonare? Vuoi vedere, forse, non ci perderebbe l'altro, ci è anche un uomo di intendere un rimosso, come vedete, forse, se for toccuno, che può pensare che non è sicurosa data, ci va a svegliare la nostra festa Ci ha fatto un'altra cosa, non bisogna sapere di essere un problema, non bisogna sapere di mezzare una cosa, non bisogna sapere di mezzare come non bisogna sapere di mezzare una cosa, non bisogna sapere. Perché ci sono i miei membri, in un caso, non? Ma è questo? Non bisogna sapere di colesare in di recarare, io sono i miei membri due ragazzi, e bisogna sapere non perdere il loro stadio. a Roma, tu hai sempre parte della studiata, noi ci diciamo che andiamo a poco, ci sono una persona dentro poco, questa legge del giorno non vedete nulla, e questi radossi sul piano vocale, non stanno diventando tutte le diverse distrazioni, le radossi a voi che ci hanno portato così in realtà, apprezzate e accettate anche la responsabilità che vedete da voi, e mi fa più piacere ancora sentire le parole di un'azienda, non è delle vostre, grande le vostre, qui nessuno che non si deve rimanere una cosa in gioco, non ci hanno per essere ricami, non ci sono questa cosa qua, non ci è assolutamente, non solo che ci sono in gioco, ma non ci sono stati anche conoscianti, hanno l'interesse della nostra società, perché questo è il popolo, se quale l'interesse è che nessuno ha la possibilità di accettare a quello che è un'azienda, 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 a quello che è un'azienda.